Siamo venuti qui con i primi firmatari della petizione Emergenza Climatica a Roma per chiedere al Sindaco di Roma, alla Sindaca di Roma, di dichiarare l'emergenza climatica ambientale nella capitale come parte ovviamente dell'emergenza globale che c'è sul cambiamento climatico, che poi sentiamo tutti anche sui nostri corpi e hanno aderito il Vice, il Prorettore della Sapienza, l'Università Link Campus, alcuni portavoce di Friday for Future, Mare Vivo e alcune riviste importanti come Green Style, Lifegate, Teleambiente e la richiesta è molto semplice, avere una mozione in Consiglio Comunale, Assemblea di Capitolina ne abbiamo parlato anche col Presidente della Commissione Ambiente, di dichiarazione e poi possibilmente in tempi non lunghi anche una delibera con le azioni concrete che si possono fare in modo che la capitale d'Italia sia una delle prime realtà a rispondere alla richiesta dei giovani di tutto il mondo che chiedono di questa dichiarazione queste sono le prime 30.000 firme raccolte in pochi giorni su change.org e ti consegno questo primo estratto ecco questo è il Colosseo oggi, noi non vorremmo arrivare nel 2100 ad avere un Colosseo diciamo che assomiglierebbe alle piramidi nel deserto grazie, io ricevo molto volentieri questa delegazione chiaramente riceviamo la vostra richiesta, la vostra petizione sono peraltro molto molto contenta che i giovani abbiano a cuore un tema così complesso per niente banale come quello del cambiamento climatico compito delle amministrazioni a cercare di migliorare le condizioni nelle quali viviamo quindi oggi si parla molto di emergenza climatica è sicuramente attuale ci rimane poco tempo per cercare di invertire la rotta quindi sicuramente faremo un lavoro importante su questo tema grazie e a presto grazie sindaco grazie